Fratelli e sorelle bianconeri, finalmente, finalmente, Andrea Agnelli ha parlato, ha parlato, ha reagito e ha mandato a quel paese, quel pagliaccio traditore di Antonio Conte. Finalmente, eravamo stufi dei silenzi di Andrea Agnelli. Il presidente, finalmente, le ha uscite e, diciamo che dopo quel dito medio di Antonio Conte, era inevitabile, era inevitabile. Si potrebbe prendere anche una squalifica, non me ne frega niente, sinceramente, ma doveva cantarle in faccia a quell'essere infame, infame, che non contento di aver fatto come un tarantolato per quel rigore fasullo, farlocco su Lautaro Martinez, sembrava Oronzo Canà, sembrava letteralmente Oronzo Canà, qualche minuto dopo stessa scena identica, col solito teatrino, Conte Oriali, sempre quasi dentro il campo, non si sa perché glielo facciano fare, per quella munizione a Darmianne, che era quasi da arancione più che giallo, col piede alto a martello, ennesimo teatrino. Lì Bonucci, dalla panchina, ha cominciato a inveire contro Conte, dicendo rispetta l'advero, rispetta l'advero stufi di questo teatrino, perché Conte parla di ci vuole educazione, ci vuole educazione, ci vuole educazione anche nello stare a casa degli altri. Sei venuto in casa degli altri, che è stata peraltro pure casa tua, e ti comporti così in casa degli altri, fa bene Bonucci a dire impari il rispetto per l'abito, impari il rispetto a stare a casa nostra, sei a casa nostra. Bene, che cos'è successo? Che praticamente Conte, inequivocabilmente, lo riprende anche un video e una fotografia in bella mostra su tutti i giornali, Conte fa il dito medio in direzione della dirigenza in alto, verso l'alto in direzione della dirigenza della Juve. Giustamente, questo non se lo può tenere Andrea Agnelli. E finalmente escono le palline del nostro presidente, ed era ora. Si dice che ci sia stato qualche altro battibecco nel sottopassaggio, comunque. Finalmente, a fine partita, Andrea Agnelli, al fisco finale, lo manda letteralmente a fare in culo, e che dice, vaffanculo, verso Conte, scende i gradini, Agnelli, vaffanculo, parla ora, coglione, parla ora, coglione, ci voleva, ci voleva. Finalmente sfanculato quello schifoso, infame, infame, tarantolato in panchina come gli allenatori della terza categoria, vergognoso, peraltro, per il nulla, per il nulla, arbitraggio impeccabile, secondo tutti i giornali. Ma Conte è famoso per il suo non voler, non saper, non saper perdere, e in questo si è calato perfettamente, perfettamente, nelle vesti dell'interista, del frustrato prescritto, che storicamente, negli anni, non sa completamente perdere. Si è inventato una qualsiasi per poter vincere qualcosa, lo sapete benissimo di cosa sto parlando. Beh, l'importante è che le abbia cantate a quelle infame. Agnelli, ti volevamo così, ora però devi completare l'opera, devi completare l'opera, devi fare rimuovere la stella a quel maledetto verme infame, la stella nello stadio, la stella nel nostro stadio, nell'Allian Stadium, la devi fare rimuovere, perché è indegno che assieme a gente del valore sportivo e morale, come Gaetano Scirea, Alessandro Del Piero o altri, ci sia la stella di quella schifezza, di quel letame, di quel letame di Antonio Conte. Perciò, mi raccomando, bisogna rimuovere quella maledetta stella dal nostro stadio. Antonio Conte, ti odio ed è sempre un immenso piacere averti mandato a fare in culo a casa, a casa Conte, a casa, a casa, fino alla fine.